Per tantissime attività nel dopo coronavirus la ripresa sarà graduale, per alcuni settori addirittura deve essere ancora più graduale perché ci sono settori che non trattano beni di prima necessità come quello orafo che tratta sì oro che è un bene rifugio ma come detto non di prima necessità. Per far sì che le aziende orafe che sono una realtà addirittura internazionale non chiudano, Oro Italy si farà portavoce di alcune richieste al governo. Dobbiamo chiedere un IVA di vantaggio nel senso un IVA ad aliquota bassa, dobbiamo chiedere una tassazione piatta al 10% degli sgravi contributivi per mantenere la forza lavoro, quindi per non licenziare e non creare nuova disoccupazione, quindi non creare altri problemi all'intero paese ma anche per non andare a gravare ulteriormente sulle casse istituzionali che ovviamente in questo momento sono molto deficitarie. Chiederemo per le aziende che esportano per la quota di esportazione l'esenzione da ogni tipo di tasse. Poi c'è un altro problema, sempre per quanto riguarda le aziende orafe, ma non solo, questo vale un po' per tutte le aziende, ci deve essere la facilitazione dell'ingresso al credito con una garanzia data dal medio credito centrale che è dell'80% ma anche dello Stato per la rimanente parte del 20%, in modo che praticamente le aziende possono ottenere subito credito bancario e possono tra le altre cose sopperire sopperire a quelle che sono le difficoltà attuali e quelle che saranno le difficoltà ovviamente iniziali per riavviare la propria attività.